Sigla Ora piccolo aneddoto sul titolo per chi chiaramente ha visto gli shorts già lo sappiamo la forma corretta sarebbe sono contenta che mia madre sia morta perché dopo il che va il congiuntivo però mi stavano dicendo appunto che chiaramente gli autori che immagino che non abbiano fatto un errore così stupido è perché hanno voluto diciamo riprendere il fatto che Jeanette racconta anche la sua infanzia e quindi è come se lei lo stesse dicendo come lo direbbe un bambino è un bambino solitamente non usa i congiuntivi quindi diciamo che c'è forse una spiegazione a questo errore che mi ha fatto rabbrividire comunque a parte questo il libro è tradotto bene quindi i miei complimenti abbiamo già parlato del libro delle prime indiscrezioni che erano uscite di questo libro anzi guardate lo metto qui oggi più che l'ora del tech lab del libro è stato un libro veramente agghiacciante cioè ve lo dico proprio sinceramente una storia agghiacciante tutta scritta in tempo presente quindi tu ti immergi proprio in tutta la vita di Jeanette perché Jeanette parte da quando ha due anni quindi è come se lei stesse raccontando sul momento quello che una ragazzina di due anni vede poi di tre di quattro fino a che non è adulta quindi è scritto in modo da davvero immergerti sentirti quasi intrappolati riesce a far capire che cosa ha provato lei è un libro molto crudo comunque ve lo consiglio oggi ne parliamo chiaramente non vi dirò tutte le parti perché se volete leggerlo altrimenti è tutto uno spoiler però oggi analizzeremo veramente le parti che mi hanno inquietato di più prima di cominciare salutiamo lo sponsor del video di oggi cioè pampling perché forse youtube questo video non lo monetizzerà quindi salutiamolo ancora più con un gran calore pampling oggi questa maglietta l'ho presa su pampling pampling è un sito in cui potete trovare magliette scarpe zaini borse costumi accessori occhiali agende tazze del tè se ne volete qualcuna in particolare vi lascio il link sotto in descrizione con il codice sconto l'ora del tè riceverete un paio di calze o calzini in omaggio sul vostro ordine inoltre ricordatevi di seguirmi su instagram perché su instagram metto sempre gli aggiornamenti di tutti i miei video quindi aggiornamenti dei casi che abbiamo trattato notizie che magari non richiedono la realizzazione di un video perché molto breve io dico tutto su instagram quindi seguitemi anche su instagram adesso non perdiamoci in chiacchiere però e cominciamo questa storia comincia quando jeanette aveva due anni quando jeanette aveva due anni sua madre purtroppo si ammala di cancro al seno ha rischiato la vita si è partito tutto un ciclo di chemio la sua degenza in ospedale tutto quanto però poi per fortuna riesce a salvarsi da quando però la madre di jeanette si salva dal cancro la sua personalità cambia cioè lei diventa un'altra persona la prima cosa inquietante che ho trovato e che vi farà venire i brividi è questa quando si riunivano a cena tutta la famiglia perché jeanette erano lei altri tre fratelli il padre e i nonni perché siccome tutti quanti si trovavano purtroppo in una condizione economica piuttosto difficile vivevano tutti insieme in un'unica casa e quando si ritrovavano a cena la madre pensate un po metteva in televisione le cassette i video di quando lei stava male cioè di quando lei era deperita per colpa del cancro di quando era quasi in punto di morte che era debole quasi tutte le sere a cena questo per celebrare il fatto che lei fosse ancora viva cioè voi immaginatevi dei bambini che tutte le sere riguardano uno dei periodi più brutti della loro vita continuano a vivere questo trauma perché la madre voleva celebrare il fatto che lei fosse ancora viva cioè già questo penso che ti lascia dei traumi incredibili già quando era ammalata chiaramente la casa era stata un po lasciata andare perché chiaramente in queste situazioni tutto ti interessa tranne di avere una casa in ordine ma dopo essere guarita la madre aveva sviluppato la sindrome dell'accumulo compulsivo per chi non lo sapesse quando l'accumulo compulsivo è come la trasmissione che si credo che la facesse su real time seppolti in casa non so se l'avete vista però non riesce a buttare nulla infatti janette racconta che camera sua era talmente più camera sua e dei suoi fratelli era talmente viena di roba tra cui chiaramente roba inutile tipo bottiglie di shampoo vuote spazzatura in generale scatole di cartone vuote cioè tutto quello che entrava in casa non usciva purtroppo è una sindrome molto grave che va curata con la terapia e pensate appunto la camera sua e dei suoi fratelli era così piena di roba che loro dormivano in salotto su un futon ma neanche era un tappetino da yoga quindi capite che la situazione in casa non era facile a livello economico non riuscivano a pagare le bollette quindi un giorno la madre ha quest'idea la madre ha quest'idea di portare janette ai casting perché anche lei aveva provato a sfondare come attrice ma non c'era riuscita aveva trasferito il suo sogno su janette infatti questo sogno di fare l'attrice di far sì che sua figlia diventasse un'attrice affermata cambia anche il rapporto con gli altri figli perché janette per sua madre diventa il centro di tutto mentre gli altri figli sono un po' lasciati a loro stessi infatti questa madre debbie si chiama la madre e debbie diceva appunto debora diceva appunto a janette tu ce la puoi fare perché sei una bella bambina bionda sorridente sei proprio fatta per la televisione quindi la porta a fare dei casting ora janette descrive questa esperienza come terrificante cioè a lei non piaceva fare i casting lei racconta nel libro siamo in questa stanza con tutti questi altri ragazzini tutti pronti a essere giudicati per le nostre prestazioni in più essendo programmi appunto party un po' family friendly nel senso magari ragazzini in delle comparse pubblicitari ragazzini in delle serie tv quindi il ragazzino chiaramente viene interpretato sempre come un po' esaltato sempre super sorridente particolare insomma più o meno quello stile lì e comunque dovevi interpretare un personaggio che non eri tu dovevi avere anche dei comportamenti che a janette non piacevano che si vergognava cioè per lei era come se si rendesse ridicola inoltre lei aveva l'ansia nel momento in cui si doveva esibire appunto nei casting per paura di essere criticata perché chiaramente non è facile e non riusciva certe volte a memorizzare tutte le battute proprio per l'ansia quindi lei questa cosa la viveva malissimo e nonostante questo sua madre continuava a portarla nei casting perché janette a seconda sua madre qui già vediamo il rapporto che si era creato tra le due la madre era una persona molto narcisista era una persona che diciamo accentrava tutto su se stessa quindi janette ha passato tutta la sua vita ad accontentare sua madre per conquistare il suo amore e nel libro traspare questa cosa cioè chiaro che lo dice apertamente però nelle pagine è scritto tutto al presente quindi tu vivi ogni episodio che ha vissuto janette nella sua infanzia cioè ti senti imprigionata tanto quanto lei la cosa inquietante è che janette non solo cercava di guadagnare l'amore di sua madre ma lei sapeva aveva imparato ad osservare sua madre a riconoscere anche le espressioni facciali delle sue emozioni c'è un episodio in particolare allora lei appunto era tornata dall'ennesimo casting aveva già fatto qualche pubblicità e a un certo punto si fa coraggio questa all'età di 3-4 anni e parliamone dice a sua madre che non di non voler più recitare ecco sua madre inizia ad avere una vera e propria crisi isterica perché sua madre gestiva così le cose nel momento in cui veniva contraddetta in qualunque cosa iniziava ad urlare iniziava a piangere e iniziava a fare la vittima ricacciando costantemente il cancro cioè lei diceva io sono guarita dal cancro io potevo morire tu mi stai facendo questo cioè ti faceva proprio venire un senso di colpa la cosa scioccante è che a un certo punto quindi janette per farla star tranquilla dice ok scusami mamma continuerò lei cambia immediatamente espressione torna a sorridere e in quel momento janette dice per far sì che questa situazione si calmi del tutto adesso dico a mia mamma di mettere questa determinata canzone perché so che è la sua preferita cioè lei aveva imparato a tal punto come calmare sua madre da sapere tutto quello che doveva fare le espressioni che doveva tenere le canzoni che doveva mettere per farla calmare cioè capite l'assurdità della situazione c'è quasi un rapporto contrario cioè quasi come se la madre fosse la figlia in realtà infatti le reazioni esagerate della madre hanno portato anche in casa un clima davvero terribile perché il padre di janette lavorava tantissimo perché appunto prima che janette diventasse un'attrice professionista loro avevano difficoltà a pagare le bollette quindi il padre lavorava davvero tutto il giorno e sua madre glielo faceva pesare ma non glielo faceva pesare in maniera di una discussione ma glielo faceva pesare in maniera folle nel senso che un giorno ad esempio janette racconta che il padre è tornato tardi da lavoro sua madre ha iniziato a inveire contro quest'uomo ha preso il coltello dalla cucina e glielo ha puntato contro e l'ha costretto a uscire di casa e dormire in macchina infatti i genitori in sostanza erano separati il padre dormiva in una brandina in una stanza piena di roba appunto per l'accumulo compulsivo dormivano separatamente ecco quindi nonostante janette avesse l'ansia di recitare tutto quanto le riusciva molto bene infatti aveva preso a sei anni aveva già fatto alcune pubblicità e aveva iniziato a fare anche qualche comparsa in alcuni film come ad esempio malcolm in the middle è comparsa in una puntata voi direte ma il resto della famiglia allora il padre non aveva nessun potere nel senso che era completamente terrorizzato dalla madre quindi ha provato a dirle lascia in pace janette perché comunque poi nel frattempo janette era stata portata a corsi di recitazione a corsi di edizione a corsi pensate di accenti cioè perché se chiedevano una bambina che parlava inglese ma con l'accento russo lei doveva saperlo fare quindi aveva smesso di andare a scuola e studiava da casa quindi era completamente isolata faceva un corso dopo l'altro danza e tutto quanto quindi sia il padre che i nonni hanno detto a debora gli hanno detto guarda debbi lascia in pace questa ragazzina falle vivere una vita normale lei aveva lo stesso atteggiamento che ha avuto con janette in macchina che vi dicevo prima perché iniziava appunto ad urlare come una pazza iniziava a lanciare roba e lei sapeva quello che faceva che era quello il destino di janette che lei era malata di cancro ed era guarita e allora sapeva tutto insomma veramente una situazione molto pesante ora un altro punto molto inquietante del libro è che sua madre aveva il terrore di veder crescere janette di vederla chiaramente sviluppare come tutti perché lei diceva che se janette sembrava più piccola dell'età che aveva quindi magari lei aveva otto anni ma sembrava una bambina di cinque avrebbe potuto prendere le parti di una bambina di cinque anni e sicuramente una ragazzina di otto anni recita meglio di una bambina di cinque anni quindi avrebbe potuto avere più possibilità nel prendere delle parti quindi lei era terrorizzata dal fatto che janette potesse crescere come fai a non farla crescere? la metti a dieta ferrea quindi dall'età di cinque anni sei anni più o meno che janette è stata a dieta ferrea che cosa intendo per dieta ferrea? per dieta ferrea intendo che la madre contava le calorie di janette la maggior parte delle cose che comprava era tutta roba ipersana, iper light, verdure, niente coca cola, niente cose del genere eccetera ma tutto in quantità limitate a tal punto che le due mangiavano dallo stesso piatto cioè si dividevano un pasto solo al giorno la madre le faceva apprezzamenti, le abbracciava, le diceva che le voleva bene nel momento in cui vedeva che janette lasciava la roba nel piatto cioè capite la gravità della situazione, capite? infatti janette nel corso della sua vita ha sviluppato diversi disturbi alimentari in primis l'anoressia fino all'età di 16 anni poi all'età di 16 anni ha sviluppato la bulimia perché ha trovato questo metodo mettiamola così di potersi abbuffare di tutto quello che voleva e poi andare in bagno a espellere il tutto quindi capite che questo tipo di comportamento ha portato janette ad avere ulteriori disturbi oltre a quelli che già le stava causando inoltre la madre per controllare le curve diciamo di janette per avere un maggiore controllo su di lei quindi per osservarla pensate le ha fatto la doccia fino a quando aveva 16 anni cioè lei trattava janette come se fosse una ragazzina di due anni le diceva no guarda janette te la devo fare io la doccia perché tu i capelli non te li sai lavare siccome sei un'attrice i capelli sono importanti te li devo lavare io quindi lei ha fatto sua madre ha fatto la doccia janette fino a quando aveva 16 anni e non solo perché spesso faceva la doccia tutti i figli insieme anche quando avevano 15 16 anni cioè voi immaginatevi dei ragazzi adolescenti tre ragazzi e una ragazza tutti insieme nella stessa doccia mentre la mamma li lavava e capite che la situazione è veramente disagiante inoltre un'altra cosa che non ho menzionato è che tutta la famiglia era mormona di religione mormona quindi c'erano dei comportamenti diciamo che non erano contemplati accommettiamola così anche per esempio parlare delle mestruazioni cioè quando a janette le è venuto il ciclo a 13 anni lei non aveva idea di che cosa fosse alla fine la madre glielo ha detto si è messa anche è stata anche abbastanza tristetto che peccato adesso non so più come non farti crescere è come se le mestruazioni non fossero già un trauma e lei non sapeva nulla cioè lei fino a 18 anni non sapeva neanche come si baciava un ragazzo perché oltre a tutto il controllo della madre lei non aveva mai potuto approfondire queste cose non aveva neanche mai potuto parlare con sua madre di queste cose quindi veramente una situazione assurda quindi infatti dopo appunto che le è venuto il ciclo ha iniziato a sviluppare proprio le curve per questo la mamma la controllava sempre di più la metteva sempre più a dieta ferrea e la faceva sentire in colpa perché lei sua madre si può si mette come racconta a janette nel libro aveva sempre questa faccia triste mentre le faceva la doccia e le osservava il seno insomma tutte le curve che si stavano sviluppando e si poneva con faccia triste quasi come se la colpa fosse di janette e infatti janette si sentiva in colpa e odiava le sue curve lei ha sempre cercato fino a una certa età di nascondere il più possibile il tutto e l'ha messa chiaramente a dieta ancora più ferrea ora passiamo al periodo in cui janette è entrata ad i carli e conosce miranda cosgrove che sarebbe appunto la protagonista della serie ecco le due sono diventano subito molto amiche tutto questo è nascosto alla madre perché la madre non voleva che janette avesse in sostanza degli amici perché comunque miranda era una ragazza sicura di sé infatti janette l'ammirava molto nel libro la descrive come una ragazza figa dice c'è la vedi poggiata la sua roulotte tutta con un fare piuttosto sveglio poi lei era molto indipendente ovviamente janette aveva fatto caso che sua madre non era come è la sua cioè che la ne stava addosso anzi spesso andava da sola sul set si faceva i cavoli suoi lei era molto più convinta però le due stringono veramente una bella amicizia che dura ancora ad oggi e janette infatti ha raccontato che miranda l'è stata molto vicina quindi è nata proprio una bella amicizia sul set tutto questo però di nascosto alla madre perché la madre non doveva sapere che le due si frequentassero ora arriviamo alla parte di den schneider perché lo so che le state aspettando allora senza che vi ridico chi è den schneider perché se state guardando il non so che numero di episodio del family friendly vuol dire che le avete viste tutte quindi ci troviamo con den schneider e janette racconta una cosa alcuni episodi in particolare innanzitutto il primo più inquietante doveva praticamente doveva fare delle foto e dei video in bikini per i carli il problema qual è i problemi erano tanti ma il problema principale qual è è che questi video e queste foto non servivano per la puntata non si sapeva per che cosa servissero ma den schneider ha chiesto ha chiesto ha ordinato alla troupe di fare questi video e queste foto in costume a tutte le ragazze della troupe immaginatevi per farci cosa perché a posto a posteriori si capisce che cosa dovesse farci e janette si sentiva molto a disagio infatti lei aveva chiesto alla costumista se potesse mettersi almeno un pantaloncino il reggiseno ok è vero un pantaloncino e la costumista ha detto no no il creatore perché poi lei non lo chiama den schneider lo chiama il creatore quindi lei di palese che sia den schneider e dice il creatore ha espressamente detto che le ragazze devono stare in costume questi filmati e queste foto non si sa poi che cosa ci hanno fatto perché poi non sono apparsi nelle puntate i costumi non servivano per le scene di i carli quindi non si capisce a che cosa servissero però noi probabilmente lo sappiamo lei descrive il creatore cioè den schneider come una persona che era in grado di farti sentire la persona più importante del mondo come ad esempio quando tu facevi una bella interpretazione e ti faceva applaudire da tutto il cast a farti sentire la nullità più nullità in assoluto perché magari ti umiliava davanti a tutti cioè lui umiliava anche dei ragazzini di 3-4 anni cioè era terribile quindi alternava le due cose rendendolo una persona veramente inquietante inoltre den schneider era molto affezionato cioè era molto fissato mettiamola così con jeanette infatti le aveva promesso anche una serie tutta sua cosa che poi come sappiamo non succederà perché invece di avere una serie tutta sua alla fine fanno la serie sam and cat con il protagonista Ariana Grande ma questa cosa la vediamo tra un po' pensate che jeanette nel periodo di i carli arriva a pesarsi anche 5-6 volte al giorno per controllare il suo peso e c'è una battuta ironica ma anche piuttosto triste ovviamente dentro il libro perché lei dice è incredibile come io fossi così fissata col peso non ingerissi praticamente nulla tutto il giorno e mentre interpretavo una ragazza che mangiava in continuazione cioè dice proprio la chiama l'ironia della vita questa cosa che è stata piuttosto angosciante quindi durante l'ultima stagione di i carli sua madre si riammala di cancro sua madre si riammala di cancro e questa volta non c'è niente da fare si ammala in ospedale non riesce a riprendersi ha avuto proprio una brutta ricaduta quindi che cosa succede che la madre non poteva più controllare jeanette come faceva prima non poteva più controllare jeanette sul set che poi tra parentesi questo non l'ho detto ma quando lei si sentiva disagio a fare le foto in costume sua madre la incoraggiava a fare tutto quello che diceva il creatore quindi cioè parliamone però passando sempre tempo in ospedale debilitata per colpa delle chemio non ha potuto più seguire jeanette quindi jeanette ha cominciato ad adempiere i suoi impegni da sola cioè ha fatto dei tour musicali perché stava producendo sempre per nickelodeon un disco ha continuato a recitare in i carli poi è andata dopo che è finita la stagione di i carli poi è andata a fare un film per netflix in canada ma comunque si libera un po da sua madre comincia ad assaporare la libertà si rende conto che può farsi la doccia da sola a 18 anni si rende conto che ed è qui che inizia la sua bullia che può abbuffarsi quando si abbuffa come se non avesse mai mangiato in vita sua che poi quello era inizia ad abbuffarsi talmente tanto che chiaramente inizia ad ingrassare per paura di deludere sua madre inizia a espellere tutto poi in bagno ed ecco qui che è arrivato il secondo disturbo alimentare però che cosa succede a un certo punto voglio raccontarvi questo episodio per farvi rendere conto anzi due episodi per farvi rendere conto di quanto la madre fosse pazza anche mentre stava per rischiare la vita genet inizia a frequentarsi con questo a 18 anni con quest'uomo di 32 che già questo è un po strano però ok vanno alle hawai insieme di nascosto alla madre cioè genet va per conto suo perché tanto la madre era in ospedale quindi le aveva detto che era andata con un suo amico gay che la madre approvava proprio perché essendo gay non c'era pericolo che succedesse qualcosa e le aveva detto che era con questo suo amico in realtà è andato col suo fidanzato è successo che però mentre erano in spiaggia le hawai sono stati paparazzati quindi il giorno dopo la faccia di genet era su tutte queste riviste teenager alle hawai insieme a questo tizio bene la madre ha visto questi articoli ha mandato quel giorno 20 mail e ha chiamato 30 volte genet e adesso voglio leggervi per farvi capire la follia un pezzetto dell'email che ha mandato la madre a sua figlia cara net sono così delusa da te una volta eri il mio angioletto perfetto e ora invece non sei altro che una troietta una sporca sgualdrina non riesco a credere che ti sei buttata via con quell'uomo con quell'orribile orco ho visto le foto su un sito web chiamato tmz ti ho visto alle hawai con lui ti ho visto stoffinarti sulla sua disgustosa pancia pelosa sapevo che stavi mentendo su colton che colton era appunto il suo amico gay aggiungilo all'elenco delle cose che sei bugiarda traditrice malvagia e poi sembri ingrassata deve essere perché ti stai mangiando la tua colpa un attimo di silenzio pensare che gli hai lasciato mettere il suo coso dentro di te mi fa star male mi nausea ti ho cresciuto meglio di così cosa è successo alla mia brava bambina che cosa ne è stato di lei e chi è questo mostro che ha preso il suo posto sei un orribile mostro ora ho parlato di te i tuoi fratelli e tutti hanno detto che ti rinnegano proprio come sto facendo io non vogliamo avere niente a che fare con te con amore mamma ps ps mandaci soldi per un nuovo frigorifero il nostro si è rotto ma ci sono altri due episodi che voglio raccontarvi per farvi capire la follia di questa donna e festeggiare insieme a jeanette del fatto che sia morta perché a questo punto ragazzi siamo tutti contenti altri due episodi il primo la madre quasi sul letto di morte quindi la stavano salutando nelle ultime ore con l'ultimo filo di voce che le rimaneva fa i complimenti a jeanette per essere così magra capite cioè qual è il pensiero cioè tua figlia sta piangendo perché tu stai morendo quello che ti viene in mente è come sei brava jeanette sei magrissima ma l'episodio forse ancora più inquietante della lettera che questo è quello che mi ha turbato di più di tutti è che debbi che debora la madre insomma di jeanette chiaramente sapeva che stava per morire c'è anche i medici l'hanno detto non c'è più scampo si tratta di poco tempo la madre voleva al suo funerale una determinata canzone e voleva che fosse jeanette a cantarla fin qui già un po inquietante il fatto che tu faccia richieste ma ok la cosa inquietante è che lei ha allenato jeanette a cantare questa canzone cioè hanno fatto ore e ore di prove al giorno sulla canzone che jeanette avrebbe dovuto cantare al suo funerale capite la follia la follia cioè io più leggevo questo libro e più non volevo andare avanti ma allo stesso tempo volevo andare avanti quindi perché poi non ve l'ho detto il libro si divide tra il prima e il dopo cioè c'è il prima che appunto è prima che sua madre morisse e il dopo che sua madre era morta questo era un dettaglio che avrei dovuto dirvi mi sono dimenticata comunque alla fine grazie al cielo sua madre muore grazie al cielo ovviamente lei quando sua madre muore ci sta male non capisce che tutto quello che ha fatto sua madre nella sua vita erano abusi non lo capisce fino a che non incontra un ragazzo lei va a fare una produzione va a girare una produzione netflix in canada conosce questo ragazzo e questo ragazzo è la prima persona che l'aiuta veramente l'aiuta veramente perché lui capisce immediatamente che lei ha dei disturbi alimentari alleluia qualcuno dopo vent'anni se ne è accorto e lei dice se non ti fai curare io con te non ci sto perché io non posso detto proprio palesemente cioè sopportare accollarmi una cosa del genere perché non ne sono in grado quindi devi farti aiutare jeanette era così innamorata di questo ragazzo che decide di farsi aiutare va in terapia va in terapia da questa appunto terapista questa psicologa che la aiuta con tutti i disturbi alimentari eccetera e piano piano che vanno avanti con la terapia la psicologa le dice tutto quello che ha fatto tua madre nella tua vita non era per il tuo bene erano dei veri e propri abusi quindi jeanette lì capisce tutto perché fino a quel momento lei continuava a recitare nonostante non le piacesse anche dopo che sua madre era morta per diciamo onorare la sua memoria continuava a non voler ingrassare per onorare la memoria della madre cioè era come se nonostante sua madre fosse morta continuasse a guardarla e ad osservarla quindi lei voleva renderla contenta quando in terapia le capisce che in realtà quelli sono dei veri e propri abusi la sua vita cambia in tutto questo poi ha ricevuto appunto anche l'appoggio di miranda quindi jeanette riesce piano piano a riprendere in mano la sua vita anche perché dopo la morte della madre oltre ad essere appunto ad avere questi disturbi alimentari era diventata anche un alcolista però grazie a questa terapia riesce a capire quello che le aveva fatto la madre ad affrontare il problema e a cercare di sopportarlo e risolverlo quindi lì si rende conto che forse è meglio così che sua madre è morta si è tolta dalle scatole e finalmente lei è una donna libera poi racconta di come abbia rifiutato i 300 mila dollari offerti da nickelodeon per non raccontare le cose che aveva visto sul set lei li ha rifiutati mentre probabilmente miranda che non ha mai detto nulla in merito probabilmente li ha accettati così come ariana grande non si sa e questa è una speculazione mia però tutti quelli che non hanno accettato quei soldi stanno parlando e altri invece non dicono nulla comunque questo è il grosso diciamo poi chiaramente ci sono dentro altre relazioni di lei che comunque lei non era in grado doveva tenerli nascosti a sua madre non era neanche in grado di rapportarsi in realtà con l'altro sesso ah poi mi sono dimenticata di dirvi il rapporto con ariana grande lei era abbastanza gelosa perché a jeanette non era mai stato concesso di assentarsi dal set per intraprendere magari altri film o un altro tipo di carriera musicale staccata da nickelodeon mentre ariana grande praticamente mancava quasi ogni giorno perché andava in giro a fare i tour quindi tra di loro non si è mai sviluppata una bella amicizia perché poi diceva che ariana grande insomma se la credeva parecchio accommettiamola così però comunque era una persona tranquilla era lei che si faceva troppi problemi ebbene ragazzi anche il video di oggi è finito spero di non avervi angosciato più di tanto ma penso proprio che invece vi ho messo proprio un magone qua come ce l'ho io noi ci vediamo la settimana prossima quindi vi auguro un buon weekend ciao